E per te ragazzi, io sono Gattro5, qui parliamo di calci mercato ragazzi infatti nella scorsa puntata è andata molto bene E vi ringrazio per aver lasciato tantissimi i miei like Quindi ragazzi vi ringrazio per questa scorsa puntata è andata benissimo Quindi ragazzi in questo episodio andiamo a parlare di possibili trasferimenti e anche più ufficiali ovviamente Quindi ragazzi iniziamo subito Quindi la prima notizietta di mercato è che parliamo subito di Robben Come sappiamo l'attaccante olandese di proprietà dei tedeschi Stava per lasciare Bayern Monaco dopo tantissimi anni E' giunto lui al termine di chiudere ormai questa carriera con i Bayern Quindi ragazzi come sappiamo Questa fine stagione, l'ultima partita di Bundesliga Lascerà ovviamente il Bayern E sembra che la Manchester City vuole l'attaccante olandese che sarebbe proprio disposto lì a chiudere la carriera Inghilterra Quindi ragazzi fatemi sapere di questa notizia di mercato E quindi ragazzi passiamo alla prossima Quindi ragazzi adesso parliamo subito del Napoli Infatti parliamo di Napoli che c'era un centrocampista e ha trovato Fernabenz Che è già il Farnas Il Farnas non lo so come si chiama Farnas Non lo so non lo so molto bene Il centrocampista del proprietario Fernabenz Sarebbe il posto che piace molto a noi A questi europei In cui per afforzare il centrocampo Quindi ragazzi Il Napoli poi c'è molto più solito campista Che infatti ragazzi Non è ancora arrivato con alcuna offerta Quindi ovviamente Dovranno ancora vedere se sarà adatto Per il centrocampista del Napoli Che il Napoli sarà pronto pure Di Purti Avere il centrocampista Dei proprietari del Fernabenz Quindi ragazzi passiamo alla prossima Di mercato Di nuovo guardiamo il nuovo del Napoli E possiamo parlarne di Illicic e di Castagnini Quindi ragazzi Illicic si era trovato d'accordo Ma c'è ancora da convincere Del Del Napoli Che non vuole far partire il soggetto Dello Dello Sloveno Che dovrà lasciare Se Bergamo Ma non si è ancora deciso niente Se in caso L'Atalanta Voressa accettare Avrebbe già trovato Il suo nuovo sostituto Già in Olanda Quindi ragazzi Vedremo in Olanda Quindi ragazzi Come diciamo Ha già trovato Già un sostituto Ma c'è ancora da convincere E di Castagnini Che lo voleva Anche in Milan Che poi Che l'Atalanta ha rifiutato E lo lascerà Bergamo Ma forse Raga Ha trovato un accordo Con il Napoli Quindi raga Ha trovato questo accordo Quindi ragazzi Ci sta Ma c'è sempre Con un contratto Di cinque anni E quindi ragazzi Sono ancora da convincere Ancora L'Atalanta Come in Cicce Quindi ragazzi Scusate Vediamo ancora Del Napoli L'ultima volta In cui si parla Di un possibile Ritorno Di Fabione Quagliarella Che De Laurenti Si ha detto Che sarebbe Disposto A far trovare L'attaccante Iteriano Il provvedo Della Sampdoria L'affare Si potrebbe fare Molto 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 Semplice Ma c'è Da convincere Della Sampdoria Spero Che non Lasceva Molto facile Il suo Giorgetino Della Sampdoria Che sono Messo Favamo Cagliare All'Albertut È arrivato Prima Nella classifica Dei marcatori Dei capocannonieri Quindi ragazzi Mi pare Che a fine partita Verrà Premiato Daranno Il premio Ovviamente Ma Ne credo Raga Io spero Che l'affare Non sarà Molto Fabile E spero Che tornerà A Napoli Quindi ragazzi L'Ancelotti L'avrebbe Messo Insieme Ad Arcadius Milico Questa è Una bella Coppietta Di attacco Milico E Quagliarella Fatemi sapere qua Di Milico E Quagliarella Di Castagnan Napoli Di Ciccian Napoli Quindi ragazzi Adesso Parliamo Di Dotton Infatti Ragazzi Il Dotton Si è preso Al centrocampista Tedesco Del Bajer Leverkus Sto parlando Di Brent Che Il centrocampista Tedesco Che ha lasciato Ormai Leverkus Ho tantissimi anni E come sappiamo Il Brent Doveva Passire A Liverpool Che la Juventus Ma Con la Juventus Ce ne sono stati Contatti E anche con il Liverpool Ma lui Poi non c'è Non c'è Non c'è Più niente Infatti Raga È ufficiale Brent Sarà ancora In Bundesliga Andrà Di Dotton C'è Una pista Dedesco Ha firmato E quindi Raga E da Questa notizia È un po' Ciotta Quindi Ragazzi Potremmo sapere qua Di Brent Adorto Ma adesso Raga Parliamo anche Di Di Nuove Adorto Infatti Sto parlando Di Togan Hazard Il fratello Di Eden Hazard Che è arrivato Anche lui Adorto Infatti L'attaccante Del De L'attaccante Del Bell Ha firmato Anche con I Dortmund E quindi Ragazzi Quest'anno Vedrà la prima volta Di Togan Hazard In Champions Quindi Ragazzi Per lui È una grande opportunità E così Per abituarsi Già A I Top A La squadra Maggiori Questa è la sua Prima volta E spero Raga Per Togan Hazard Che farà Come il fratello Diventerà Ancora Un po' Più Forte Come il fratello Io mi immagino Togan Hazard Contro I Fred Sarebbe Un bello Incontro Raga Fatemelo Sapere Anche qua Quindi Ragazzi Adesso Parliamo Ci spostiamo Di nuovo Infatti Sto Parlando Del Manchester City Che vuole L'attaccante Sinistro L'eroe Sinistro Che sarebbe Poi Disposto A Lasciare Il Manchester City Perché Ragazzi Lì Sinistra Non so I Noi Infatti Non c'è Più Ragazzi Con il Sto Allelatore Non so Farlo più Giocale Infatti Cardio Vuole Farlo Giocare Quindi Sani Sarebbe Disposto A Lasciare La Capitale Per Prodare A Monaco Infatti Sarebbe Già L'adattativa Per Portare La Grande Sinistro Tedesco In Punto Sbicla Per Fattornarlo In Patria Quindi Ragazzi Non c'è 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 Ma I Tedeschi Stanno Trattando Per Portare Dove Sane In Patria Quindi Ragazzi Facciamo Sapere Qua Questo Sperimento E Raga Ci Così All'ultima Notizia Di Mercato Parliamo Di Del Act Che Sembrava Molto Vicino Al Barcellona Ma Non c'è Ma La Trattativa Potrebbe Anche Sfumare Diciamo Raga Diciamo Che Il Difensore Olandese Che Stava Quasi Voleva Il suo Desiderio Giocare Con Il suo Compagno Dell'Ajax Franchi De Jong Quindi Ragazzi Franchi De Jong Che Stava Insieme A lui Ma Tutte Le Voleva Sfumare Infatti Il suo Agente Raiola Che Voleva Mandare Al Barcellona Ma Potrebbe Sfumare Infatti Hanno Dato Già 5 Milioni Diffutati Infatti Ragazzi Manchester United Si sta Muovendo E Gli ha Dato Proprio Un Afferto 12 Milioni E Vedremo C'è La Convince Il Difensore Il Manchester United Sta Convinci L'Olandese Lasciare Amsterdam Per Proprio Manchester United Siccome La brutta Stagione Per Manchester United Che Non ha Trovato La Champions Ma Ha Trovato L'Europa League Che L'anno Prossimo Manchester United Sta Provando A Rinforzarsi Come La Di Poco Pa R R Questo Sede Andrà A Paris St Germain E Ragazzi Mi Pare Che Manchester United Dovrà Di Farsi Un Po Di Tutto Campo E Difesa Non Lo So Infatti C'era Pure Kulipali Che Lo Voleva Ma Non Ci Sano Trovati Più Contatti Quindi Vabbè Tutto Noi Ci Vediamo Su cui Sono Giunti A Termini Questo Episodio Non Ci Vediamo Come Sempre Forse Domani Con La Carriera E Settimana Questa Settimana Ci Vedremo Con L'ultimo Assaggio L'ultima Giornata Ci Vediamo Tutto Noi Sempre Ci Vediamo Paz 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 Ciao Ciao